allora scusate il sottofondo che cittano i bimbi che gridano parlano ridono comunque comunque stavo mettendo l'olio che ci avevo fritto le patate ad Anna l'ho messo in contenitore di troppo ancora diciamo che può essere riutilizzato se parliamo sempre di olio di semi visto che è incalato tantissimo io appena faccio una che si tratta comunque di patate altre fritture no perché poi meno male si ci rimane sempre qualcosa e quindi poi lo vado a buttare cerco di non metterne molto però visto che oggi ho fatto quelle patate belle fritte fritte l'olio era buonissimo quindi per altre due o tre volte lo vado a riutilizzare perché sennò non si può poi giustamente vado a lavarmi tutti tutti i piatti e mi sistemo la cucina e vado a fare altre cose che ho lasciato comunque in sospeso in mattinata e le vado a concludere nel pomeriggio e niente vi lascio una buona visione a 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 adesso poi io questa mattina avevo messo la lavatrice con i tappeti poi vabbè stavano uscita quindi i tappeti sono rimasti in lavatrice ma comunque le cose che ho passato da questo lato a quest'ora sono già asciutte sicuramente da stamattina ieri a voglia quindi mo li raccolgo quelle che ho steso stamattina sicuramente ancora no però queste sono Grazie. Allora, stracci messi nella lavatrice, ecco ancora ci sono i famosi lenzuoli da lavare, vabbè, da sera. Vabbè, questi a mezz'oretta li attacco, così li stendo, allora mettiamoci, faccio fare giusto una ciocquata di mezz'oretta, allora, vabbè, intanto aspetto che si faccia l'orario per andare a prendere i bambini che arrivano con il pulmino. E adesso mi metto un po' qui seduta sul divano e mi guardo, ho visto che è uscita la notifica che Rita, la dolce casa, ha pubblicato un video, quindi vado a guardarmelo. Ciao! Allora, la lavatrice ho finito con gli streccetti e ma li stendo, i bimbi sono rientrati. Ok, togliamo. Allora, buttate davvero le appazzatura! Va bene! Allora, sono un pochettino, sì, andiamo subito, sono ancora un po' umidi, quindi vi... Ah, però non ho controllato le federe dei cuscini, vabbè, porto Chiara al bagno e poi vado a controllare le federe. Questo intanto bevilo, no? Poi se ne vuoi ancora mamma te lo dà un altro. È già finito! Aspetta! Allora, aspetta! Andiamo a mettere i cuscini sul... Oh! Oddio! Mi stavate cadendo! Ecco qua i cuscini sul... Mamma! Eh... Allora, ho raccolto i pannelli piegati e conservati. Sono le cinque e un quarto, ma mi preparo il sugo, però volevo un attimo aggiustarmi qua, che guardate un po' che confusione che c'è. Quindi me lo volevo un po' aggiustare. Allora, già con solo due cose che ho spostato è più ordinato. Sono bravissima! Ah, vanitosa! Anche perché i tovaglioli mi sa che li devo pure... Sì, infatti, io li ho messi là e li devo comprare. Quindi, vabbè, se la io li lascio qua. Ehm... Aspettate che le riagisci sto... Aspettate che le riagisci sto... Sarebbero i batticuori della mulina bianca. Aspettate che le riagisci sto... Insalata mista fatta. Adesso mi preparo un succhetto. Chiara! La finisci con queste conchiglie! No, vabbè. Mi sa che ha durato abbastanza questo vasetto con le conchiglie, ma dovrò abolirlo, creare qualche altra cosa perché questa qui le conchiglie non me le lascia in pace. Mamma! No, mamma niente! Ti ho detto 3.000 volte che le conchiglie non me le devi toccare! Oggi! Amm... T Meganas Golden Girls muita ho favo qui... No, no no... No no... No no... Amm... Amm... Mm... Ahhhhh... Amm... Amm... Chiara? Ciao. Ciao, qualche Кто? Ah, sì, mannah Yeah, ma? Manjcie, per lego, ma prima cosa e la ogni cosa erendo. Così o no, no... Cenke, come in! Sono anche i marix, To Cerlife... Grazie a tutti. La cosa caos è tutto. Abbiamo messo il sugo a cucinare. E abbiamo messo Batman in azione. A dopo. Allora. Caos. Caos. La piccolina è crollata col di mano. L'altro sta giocando. E niente, sono le 8 e un quarto. E adesso sparecchio. E lo vi piatti. Mi venite ad aiutare? Grazie. Guardate. Guardate. Grazie a tutti. 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 Buona serata. Ciao.